C'è un prodotto della natura da salvaguardare nel territorio cremonese, siamo a Galignano che è una frazione di soncino per parlare delle radici amare di soncino. Siamo con Roberto Bosio che è forse rimasto l'ultimo coltivatore, l'ultimo produttore di questo, che è un alimento che in passato è stato fondamentale per la popolazione del territorio. Roberto, la radice amara di soncino, che caratteristiche ha? Come vedete è come una carota ma più lunga ed è bianca, quando è lavata si presenta bianca, è un po' segnata dal sasso perché noi abbiamo nel sottosuolo il sasso che la scolpisce come si vede. L'hanno sempre coltivata, arriva fin dai primi novecento, l'hanno coltivata e poi siamo andati sempre avanti coltivandola perché era un prodotto che si riusciva a conservare d'inverno quando le temperature si abbassavano. Lui resisteva al freddo e si raccoglieva man mano alla domanda. La raccolta inizia ottobre e finisce ai primi di aprile. Qui la gran parte la fanno lessa e poi la condiscono. Però si può mangiare anche cruda, tagliata alla julienne, è molto buona. Se uno lo prova è un prodotto che è valido, poi fa molto bene la salute. Roberto, cosa avviene qui all'interno degli stabilimenti dell'azienda? Allora come vedete adesso le radici sono arrivate dal campo, vengono con robesce a cassone, viene ribaltata in una specie macchina di lavaggio e vengono lavate. Poi viene a sua volta convogliata all'interno del magazzino dove viene confezionata. Roberto Bosio è rimasto quindi l'ultimo custode delle radici amare, ereditando la passione per questo prodotto iniziata dai suoi genitori negli anni 50. La raccolta manuale, la successiva lavorazione in laboratorio e lo scarso consumo circoscritto al nord Italia rendono la sua coltivazione anti-economica, soprattutto di questi tempi. Ma le radici amare di soncino, dal gusto così intenso dovuto ai minerali rilasciati dai sassi presenti nel terreno a medio impasto, ha diritto ad un riscatto e di trovare posto nelle case e nei ristoranti. La continuiamo a coltivare perché se smettiamo noi non c'è più neanche la radice a soncino. Grazie a tutti.